lascia che indovini cerchi un posto per poter lavorare alla tesi volevo andare a studiare biblioteca ma è stata presa d'assalto vuoi che studiamo insieme possiamo andare in camera mia se ti va eravamo vicine per tutto questo tempo già gli decenni abbiamo tirato fuori quello di cui avevamo bisogno lei ha messo tre cartello accanto a me su ciascuno c'era scritto tesi ho preso il mio foglio di appunti vergognandomi un po' era tutto spiegazzato e pieno di cancellature mi autorizzi a dare un'occhiata cianni mi ha preso il foglio di mano e si è messa ad andare di qua e di là leggendo la mia bozza nessuna risposta continuava a fissare il foglio senza dire niente ho preso il cellulare senza fare il rumore mi sono ricordata all'improvviso che non avevo ancora mandato messaggi a rose e alexi ho subito scritto un sms per proporre ad entrambi di vederci in un bar o al parco a fine giornata eurica mi sono così spaventata che il cellulare mi ha suggito di mano il tuo progetto di tesi è brillante veramente abbiamo approfittato delle ultime ore del pomeriggio e ad un certo punto ho guardato l'ora sul cellulare oh sono già alle sei meno un quarto devo andare un appuntamento con rose e alex scusami scappo grazie di nuovo cianni ciao ho cercato di nascondere il peluccio dietro di me come ho potuto oh mamma mia è per me beh no non è per te per il bebè grazie adorabile non dovevi mi fa piacere ha messo l'ipopotamo sulla piccola credenza all'ingresso ad ogni modo benvenuta da me wow fantastico com'è che non ho ancora avuto l'occasione di vedere il tuo appartamento finora prima di tutto non hai mai insistito per venire e poi non ti ho invitata prima perché non abbiamo avuto tempo di mettere in ordine ultimamente quasi quasi dimenticavo che abbiamo dei mobili sotto i vestiti immagino che tra il tuo guardaroba e quello di late non resti molto spazio immagini bene ti faccio fare un tour con piacere qui il salone con la mezzanina che abbiamo trasformato il letto in fondo il bagno e un'altra camera un'altra camera fate già previsto tutto per il bebè non c'è bisogno di parlare sotto voce non siamo più l'università già scusa è un riflesso allora no perché il bebè è stata una sorpresa come ti ho detto ah sì è vero era la camera di lisandro shuriko nella schiena che volevo evitarmela no ma non la usa più ormai quindi finora è stata la stanza degli ospiti e anche uno studio e un laboratorio di cucito e un'estensione del mio guardaroba ma penso che cercheremo di fare un po di spazio per il piccolo ad ogni modo il vostro appartamento è carino non sai cosa darei per avere un appartamento come il tuo piuttosto che quello sgabuzzino all'università guarda che per essere una stanza all'università è grande e comunque costa sicuramente meno uno sgabuzzino addirittura esagero solo un filino vieni cominciamo a bere qualcosa o a mangiare qualche pomodorino non so che punto è alexi ma non dovrebbe tardare abbiamo messo le bevande e i bicchieri sul tavolo e tirato fuori dal forno quel che avevamo preparato wow hai preparato tutto questo ma siamo solo in tre ho guardato la sua pancia cioè quattro adesso io che parli a queste frasi sul bambino ok è incinta basta è vero non so che mania mi ha presa mi è venuta voglia di sperimentare tutte le ricette dei miei libri di cucina ho dovuto limitarmi ma magari lei si raggiunge in serata ah che bello tutte le ricette dei libri di cucina di solito c'erano tipo ana tra la pechinese che un contorno di bambù appena raccolto delle montagne del tibet condito con olio di panda non di palma di panda fatto rosolare al sole e poi tritato e spremuto ci siamo sedute una accanto all'altra abbiamo cominciato a spizzicare le verdure crude come stai non sei troppo malata manco avesse la peste bupponica no magari mi incapiterà in seguito ma mi sento straordinariamente serena per il momento lì di lato vedi sto bene che fortuna non è così per tutte le donne è un cappa per campanelle il cappa e ovunque rosa si è alzata per andare ad aprire la porta ad alex che è entrato con le braccia piene di regali è natale diamine alex è svaliggiato tutti i negozi della città no ce ne sono solo 36 e no 37 col tuo regalo herkel harry plopper harry plopper mi ha lanciato una maglietta a prenderlo scoperto che c'era scritto sopra team baby team baby team baby e credi che possa metterla per andare all'università un po di solidarietà che diamine sei matto oh santo cielo alex sei impazzito dove le metti tutte queste cose se non hai spazio per i regali come farai per un bebè siamo scoppiati a ridere tutti e tre alex si è seduto tra di noi abbiamo guardato rosa aprire i regali uno dopo l'altro all'italora duri avanti tu darmi il negozio perché qua ci deve essere spazio per il bebè non provare mica a portare i tuoi vestiti qui il tuo unico compito è sfamarci voglio che tu apri per prima questo l'ho fatto fare con molta cura quindi ci ritengo rosa si è messa ad aprire il pacchetto ha tirato fuori una tutina da neonato quella scritto i love mio zio rosa si è alzata piegata in due dalle risate e ha baciato alexi sulla guancia ha continuato ad aprire i regali allegramente mentre spizzicavamo c'era di tutto fasce per i capelli un cappello di babbo natale per neonati una costume da fata biberoni su di colori una cravata a forma di ananas ma che cazzo di ananas ma porca ogni volta che rosa apriva un regalo ridevamo un po più del precedente ci ha voluto almeno un'ora per aprirli tutti ad un certo punto abbiamo sentito il rumore di una chiave nella serratura ciao wow cosa succede qui è per te papà i brividi basta rosa piange da ridere e cerco come posso di non sputare il sorso che ho in bocca light ha guardato rosa con tenerezza si è chinato su di lei ha dato un bacio sui capelli chiudendo gli occhi era solo un bacio ma ho dovuto distogliere lo sguardo sento l'intensità sconosciuta di quello che li lega cosa stai dicendo alexi è matto guarda tutto quello che ha comprato per il bebè ma sono tutti fumati lì dentro ma perché l'ho lasciato acceso il gas ma perché bebè dio sei brutto questo sprite donna sembra veramente un pesce questo bambino ha già più vestiti di noi due messi insieme e non è cosa da poco a proposito non ve l'ho detto alex e airkel rosa ha assunto improvvisamente un tono serio l'abbiamo fissata a tutti quanti ha tirato fuori dalla borsetta un foglio piegato fino ad ora erano sole supposizioni ma la nasi del sangue l'ha confermato sono incinta di tre settimane ci siamo alzati gridando di gioia mi sembra di rivivere l'annuncio della notizia dopo la giornata di lavoro che ho passato credo che non parteciperò ancora lungo la vostra piccola serata vado a fare lo spogliarello su nella mezzanina oh no late abbiamo appena cominciato ma vi andrebbe di festeggiare l'evento questo weekend ho pensato alla gara di surf di cui parlano tutti e confesso che mi sarebbe piaciuto andarci accidenti non sono libera questo weekend ci sono un po di addominali che mi aspettano in spiegia con surf anche se andassimo alla festa sulla spiaggia potrei fare uno sforzo in questo caso scusami triglia senza offesa ti prendo sberna ma non è che solo perché tu organizzi una festa per il tuo sottospecie di mostriciattolo io devo essere libera per tutta la mia esistenza festaiola e per di più molli gli amici preferisci la festa a noi confessa quello che ci abbandona per 10 episodi preso moroso beh i due assieme ancora meglio scusate è assurdo che uno non possa avere dei piani per il weekend solo perché qualcuno ha deciso di ingravidare qualcun altro è un'idea eccellente lei potevi dirlo subito così mi risparmiamo la figura di mer si infatti è colpa tu hai capito comunque con che faccia da pesce e palla da acquario perfetto allora però bisogna che mi procuri un costume da bagno per l'occasione non credo di avere quello che ci vuole nel mio armadio detta così sembra che lei abbia tipo ho un costumino un po troppo da ragazzina meglio che comprare una porcata possiamo ritrovarci al mattino alla boutique lei ti ha ricevuto delle collezioni super carine e dopo andiamo insieme in spiaggia ma chi è che riceve le collezioni dei costumi davanti a novembre perfetto vedo che lei non smetteva di sbadigliare ho capito che erano di lasciarli soli su vieni alex torniamo a casa di già no tra l'università e il lavoro di lei te non riesco di vedersi spesso sarebbe bene lasciare loro un po di privacy e non dovremmo essere noi a dirlo a te su alex abbiamo delle cose da dirci io e late non voglio sapere cosa vede voi due tipo come lo chiami il bambino io lo chiamerei viola c'è il corredo perfetto c'è scusa fa pandan con i mobili posso abbandonare il bambino sul mobile fa da soprammobile ah è così che dite voi in questo caso anch'io delle cose da dire a morgan su vieni l'ho preso per il polso ho abbracciato rosa e dato un bacio a late bacio a late c'è una trota nel reparto pescheria a proposito late congratulazioni anche a te hai fatto qualcosa sei stato partecipe sappiamo oh grazie a elke io e alex siamo usciti ti rendi conto che così da un tratto ci troviamo proiettati nel mondo degli adulti dovremmo abbassare la voce alex qualcuno potrebbe sentirci cioè tu ti preoccupi che qualche alex dica una frase generica sul mondo degli adulti può essere anche solo che qualcuno abbia trovato un lavoro e tu hai paura che qualcuno ti possa sentire e ti slingui ryan su una panchina o in spiaggia e non dici beo ah è vero scusa ma comunque come faremo io non so occuparmi di un b di questo insomma sei tu che dovrei occupartene non ti preoccupare e se morgan volesse avere un bambino credo che avrete il tempo di discuterne dai vieni hai un po esagerato e colla un shampoo mi mandiamo se morgan vuole cosa alexi mi ha stretto la mano di nascosta senza distogliere lo sguardo da morgan ti prego fai che abbia sentito ho passato la serata con degli amici scusa se non risposto al tuo messaggio mi sei mancato non importa anch'io ero fuori stasera ciao morgan ciao ti chiedo scusa dimentico le buone maniere oh no ma c'è alexi capisco benissimo stai bene benissimo grazie si è voltato verso alexi vuoi che continuiamo la serata insieme sì sì continuatela che domande sono alexi ha lasciato la mia mano bruscamente ho voglia di baciarti sono subito rossita e ho levato le tende posso quasi percepire il calore che proviene da alexi se la tensione sessuale potesse essere visibile mi ci ritroverei nel bel mezzo allora fallo alexi si è gettato su di lui ha circondato con le braccia la nuca di morgan e hanno iniziato a affrontarsi appassionatamente non mi sento per niente di troppo alexi vieni lo stesso o no alexi mi ha guardata ha smesso di baciare morgan no te l'ho detto io e morgan abbiamo delle cose da dirci sì capisco in questo caso vi lascio buona serata buona chiacchierata scusa se te lo rubo lo ritroverai domani in ottimo stato preferirei passare la settimana sotto le coperte con te ok adesso vi lascio proprio buona serata ragazzi ho continuato da sola la strada verso università è vero che all'inizio di una relazione abbiamo tutti un lato folle che emerge mera comunque un po imbarazzante non ho potuto non sorridere ripensandoci è la prima volta che vedo alex con qualcuno sembra così innamorato sono felice per loro sono davvero una coppia ben assortita quei due o salva stolina mia alex con qualcuno sembrava Grazie.